Uè non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi quante novità anche oggi per quello che riguarda il futuro di Fortnite e soprattutto gli eventi e la storyline che si stanno per concludere in questa season numero 10. Prima subito di iniziare però volevo fare un bel in culo la balena a tutti quelli che hanno iniziato anche oggi la scuola, gli ultimi in Italia probabilmente. A tutti voi ragazzi, a chi ha già iniziato, a chi è iniziato oggi, a chi ci va da una settimana, DAIE! Tenete duro, come on, mi raccomando, studiate, fate i bravi che ce n'è sempre per tutti e mi raccomando quest'anno sono sicuro che volerà presto. Nel video di oggi parleremo però ragazzi della fine della promozione della skin Iconic. Anticipata prepotentemente direttamente dai piani alti di Samsung, voglio farvi leggere quello che scrivono e invitarvi ovviamente a darvi una mossa se per caso avete intenzione di prenderla e non lo avete ancora fatto. Non c'è più tempo da perdere. Vedremo anche però la prima parte del Rocket presente in game e parleremo un attimo di quello che potrebbe accadere e di quello che è già accaduto. Per quanto riguarda, come andiamo a vedere nel terzo argomento, il visitatore o i visitatori, ve ne parlerò ragazzi perché è veramente curioso quello che è accaduto e quello che è stato modificato. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano il mio codice creator Xyuderone. Grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop, mi raccomando iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima è la domandina raga, ve la devo, è basso, lo alzo, lo alzo, si sente meno nel, la domandina semplicissima, ve la faccio proprio easy easy ragazzi, è meglio il visitatore o lo scienziato, due skin accomunate da qualche cosa ma differenti tra loro, dai lo scienziato è enorme. Dai ragazzi ha un hitbox che è più grande del, non lo so, del sedere di platinet, cioè per dire, è veramente enorme, io credo che il visitor sia migliore, mi piace di più, ci sta un botto, tanti ricordi, ditemi quale è secondo voi la vostra preferita qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance, andiamo subito subito ragazzi a parlare appunto di uno degli argomenti più scottanti del video di oggi, la fine della promozione della skin iconica. Se ci fosse ancora qualcuno che per qualche strano motivo non sa di cosa sto parlando, skin presente nel Samsung Galaxy Note 10, adesso non me lo riesco a ricordare, skin epica con tanto di balletto integrato. Esistono tanti siti che hanno modo di fornirvela eventualmente senza ottenere un telefono, però mi raccomando, cercate sempre di prenderla in maniera legit. Arriva, eccolo qua ragazzi, l'informazione, perché c'è scritto Iconic e Da Vinci Skin Info. Da Vinci è la nuova skin che sta per arrivare, ve la faccio rivedere, perché ve l'avevo già parlato in un video precedente, quindi molto molto rapidamente ragazzi. Eccola qua, se non l'avevate ancora vista, la skin Da Vinci, come vedete, femminile, anch'essa con un ballo integrato unico. Dovrebbe essere del Samsung Note 10, e qua io ho bisogno che mi confermiate che o è il Note 10 o è l'Honor 10. Ragazzi è un coso col 10, nel senso comunque appena ci saranno informazioni più precise le saprete anche voi, non abbiate preoccupazioni perché non è ancora disponibile. anticipata la data di fine della promozione Iconic o Iconic dal 31 dicembre di quest'anno al 25 settembre. Quindi ragazzi avete nove giorni per riscattarla, se la volete mi raccomando datevi da fare e ovviamente aspettiamo di saperne di più su quanto concerne ovviamente la skin Da Vinci. Qua sopra di me il post ufficiale, direttamente nel supporto tecnico di Samsung con un moderatore che dice, una piccola nota per tutti, abbiamo deciso di accorciare il tempo della promozione dal 31 dicembre al 25 settembre. Quindi ragazzi, attenzione. E andiamo avanti con il prossimo argomento, parliamo, anzi vediamo un oggetto che sicuramente avrete riconosciuto. E' parte del rocket, parte del razzo, non ancora pubblicato ovviamente, non ancora presente in game questa parte. Voglio intanto farvi vedere quello che c'è in game. Come vedete siamo nel magazzino dove è stata preparata l'apertura per il rocket. Ed ecco qua infatti, la prima parte è stata posata dallo scienziato, dal visitatore. Qualcuno l'ha messa ragazzi, potete andare tranquillamente a vederla. Anche voi i propulsori rocket che è davvero simile se non uguale al rocket dell'evento della season 4. Quello che poi aprì le varie fenditure in cielo, fenditure che si sono protratte fino a questa season, fino alla season numero 10. Questa dovrebbe essere la nuova parte che vedremo tra qualche giorno. Ce ne sono tutte e si sono già tutte presenti nei file di gioco. Abbiamo un altro pezzo. Poi mi sembra che abbiamo il corpo centrale che è questo. E per finire ovviamente la punta. Quindi il rocket è veramente simile a quello già visto in season 4. E parliamo ragazzi della skin dello scienziato. Allora qua ci sono un po' di cose da dire perché o hanno cambiato direzione in corsa quelli di Epic Games o semplicemente ci hanno trollato per poi ripubblicare e modificare le descrizioni. Intanto la skin dello scienziato si ottiene con le sfide che andranno avanti fino al termine della season. Termine di questa season il 6 ottobre se non ricordo male. Poi dovrebbero esserci dei giorni dove ci saranno le sfide quelle per sbloccare. Stili personalizzati di qualche skin al che l'11 ottobre comincia la season numero 11 che andrà avanti fino al primo dicembre se non ricordo male. La cosa che è particolare della skin dello scienziato lo vediamo qua infatti in questa foto dell'armadietto è la sua descrizione. Innanzitutto hanno cambiato il nome da visitor volta a scienziato. La sua missione è sconosciuta. È uno dei set. Tra l'altro fa parte del set visitatore. Forse non ve ne siete accorti ma se ci spostiamo invece sulla descrizione del visitatore intenzioni sconosciute uno dei set. Quindi questo è un filo conduttore che accomuna le due skin. Vi avevo pubblicato al momento dell'uscita sulla mia pagina Instagram Xyuder andate a dargli un'occhiata che c'è sempre roba di Fortnite anche lì. Non ci sono le mie foto nudo. Non ci sono. Come si dice? Qualcuno mi diceva Xyuder sono ancora sei le skin che devono uscire. Dando tutte skin gratuite. Quindi sette skin leggendarie gratuite nel corso di queste season. No. Io avevo detto sono cinque perché fanno parte infatti dei sette. Tra virgolette giustamente la domanda è gli altri cinque chi cavolo sono? È venuto fuori una bella idea, una bella ipotesi da parte di un ragazzo. Prima di farvela vedere vi voglio già dire che ci saranno delle sfide collegate con lo scienziato. Lo scopriamo perché nei file di gioco è presente una riga che si chiama Use Zero Rift with Skin. Quindi probabilmente ci sarà anzi sicuramente una missione dove dovremo utilizzare la fenditura di sponde del saccheggio indossando l'outfit dello scienziato. E come vi stavo dicendo per chiudere il video qualcuno ha detto l'evento del rocket è stata la prima skin il visitatore. La prossima quindi quella di adesso dovrebbe essere Kevin quindi il cubo in teoria che finisce a sponde del saccheggio e in qualche modo c'entra lo scienziato. E poi abbiamo gli altri eventi che sono l'evento del re dei ghiacci della season 7, l'evento del vulcano della season 8, l'evento delle farfalle e il final showdown nella season 9. Insomma ragazzi tante cose ancora da scoprire, tante novità da vedere. Io per oggi vi ringrazio tantissimo per avere guardato il video News. Mi raccomando un bel like ci vuole un secondo, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al live su Twitch alle 8 e poi pomeriggio dalle 13 su YouTube. Ciao! E non mi parte l'altro. E dove è il tosto dell'altro? Ciao! 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 Ciao!